La lotta alla mafia è un tema sempre attuale in Sicilia, una terra che da decenni cerca di liberarsi dall'oppressione della criminalità organizzata. In questo contesto, l'inchiesta Picaneddu ha segnato un punto di svolta, soprattutto per il quartiere di Picanello, a Catania. Questo quartiere, per lungo tempo sotto il controllo della famiglia Santa Paola Ercolano, ha visto nel blitz del 2021 l'inizio di una vera e propria offensiva da parte delle forze dell'ordine per smantellare le strutture operative della cosca mafiosa. Sei appassionato di storie di mafia e vuoi scoprire i segreti più oscuri e le vicende meno conosciute? Abbonati al canale dal pulsante che trovi sotto al video, oppure dal link che trovi in descrizione e accedi a video esclusivi dedicati ai misteri della mafia, alle inchieste più scottanti e ai racconti che non troverai da nessun'altra parte. Entra adesso nella nostra area riservata e scopri tutto ciò che la storia non ha mai rivelato. Il blitz è stato uno degli episodi più significativi nella recente storia delle operazioni antimafia. L'inchiesta ha mostrato, ancora una volta, come la mafia siciliana non sia più solo un'organizzazione dedita alle tradizionali attività illegali, come il traffico di droga e le estorsioni, ma si sia ormai evoluta in una struttura capace di infiltrarsi nelle più disparate attività economiche legali. Il coinvolgimento di Giovanni Comis nella Q Records è solo uno degli esempi di come la criminalità organizzata riesca a riciclare i propri proventi attraverso attività imprenditoriali apparentemente innocue. Comis, figura di rilievo all'interno della famiglia Santa Paola Ercolano, è stato identificato come il vero motore dietro l'operazione di riciclaggio attraverso la Q Records, una casa discografica specializzata nel settore neomelodico. Questo tipo di musica, particolarmente popolare nel sud Italia, rappresenta un settore dove la mafia ha trovato terreno fertile per nascondere le proprie attività illecite. Non è raro, infatti, che personaggi legati alla criminalità organizzata trovino nel mondo dello spettacolo, in particolare in quello musicale, un veicolo per ripulire denaro sporco e al contempo costruirsi un'immagine di rispettabilità. Le indagini della magistratura hanno rivelato come la Q Records fosse utilizzata non solo per riciclare denaro, ma anche per creare una rete di contatti e influenze utili al clan mafioso. Il mondo neomelodico, caratterizzato da un forte legame con le comunità locali, è stato sfruttato per mantenere il controllo del territorio e per continuare a esercitare il potere sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Questo aspetto ha evidenziato ancora una volta la capacità della mafia di adattarsi e di evolversi, utilizzando nuovi strumenti e settori per perpetuare la propria esistenza. Tuttavia, l'inchiesta Picaneddu non si è limitata a colpire solo le attività economiche del clan. Grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio D'Arrigo e alle intercettazioni raccolte, è stato possibile ricostruire anche il funzionamento del braccio armato del clan che operava principalmente nel quartiere di Picanello. Le intercettazioni ambientali, effettuate grazie alle cimici piazzate nella Maserati presa in affitto da uno degli affiliati, hanno offerto una finestra privilegiata sui piani e sulle strategie del clan. Le conversazioni registrate all'interno dell'auto hanno svelato non solo i dettagli relativi alle operazioni economiche, ma anche quelli riguardanti le attività più violente del gruppo criminale. In particolare, le intercettazioni hanno permesso di far luce su una serie di operazioni volte a mantenere il controllo sul territorio attraverso l'intimidazione e l'uso della forza. Estorsioni, minacce e violenza erano all'ordine del giorno nel quartiere di Picanello, dove la famiglia Santa Paola Ercolano aveva imposto il proprio dominio per anni. Il blitz del 2021 ha permesso di fermare, almeno temporaneamente, questa spirale di violenza, arrestando non solo i capi, ma anche i soldati della cosca che operavano quotidianamente sul territorio. Un altro elemento emerso dalle indagini è stato il legame tra il clan Santa Paola Ercolano e altre organizzazioni mafiose, sia a livello regionale che nazionale. La mafia siciliana, infatti, non opera in isolamento, ma si avvale di una rete di alleanze che le consente di estendere il proprio potere oltre i confini dell'isola. Questo aspetto è cruciale per comprendere la portata del fenomeno mafioso in Italia. Non si tratta solo di un problema locale, ma di un sistema organizzato che coinvolge diverse regioni e che spesso si infiltra nei settori chiave dell'economia nazionale. Il processo di secondo grado, che ha portato alla conferma delle condanne, è stato un momento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata a Catania. La decisione della Corte d'Appello di confermare le pene inflitte in primo grado ha rappresentato un segnale chiaro. Lo Stato non si arrende di fronte alla mafia e continuerà a combattere con tutti gli strumenti a sua disposizione. Tuttavia, come emerso dalle analisi degli esperti, la battaglia è tutt'altro che conclusa. La mafia, come dimostrato più volte, è un'organizzazione resiliente, capace di riorganizzarsi e adattarsi alle nuove circostanze. Le condanne confermate non sono solo un risultato positivo per la giustizia, ma rappresentano anche una vittoria simbolica per tutte quelle persone che nel corso degli anni hanno lottato contro il potere della criminalità organizzata. Dalle forze dell'ordine ai magistrati, fino ai giornalisti e ai semplici cittadini che hanno avuto il coraggio di denunciare, questa sentenza rappresenta una speranza di cambiamento per Catania e per tutta la Sicilia. Nonostante tutto, il cammino verso una società libera dall'influenza della mafia è ancora lungo. Il coinvolgimento della criminalità organizzata nell'economia locale, in settori come quello musicale o imprenditoriale, dimostra quanto la mafia sia radicata nel tessuto sociale ed economico della Sicilia. È per questo motivo che le operazioni come Picaneddu devono essere seguite da un impegno costante da parte delle istituzioni, non solo nel colpire i capi delle cosche, ma anche nel prevenire il riemergere di nuove forme di criminalità. Un altro aspetto fondamentale è l'educazione delle nuove generazioni. Solo attraverso la formazione e la consapevolezza si può sperare di costruire una società in cui la criminalità organizzata non trovi più terreno fertile per prosperare. Le scuole, le università e le associazioni civili hanno un ruolo cruciale in questo processo, perché solo un cambiamento culturale profondo può davvero sconfiggere il fenomeno mafioso. Le intercettazioni ambientali e telefoniche, così come l'utilizzo di nuove tecnologie investigative, hanno dimostrato di essere strumenti efficaci nella lotta contro la criminalità organizzata. Tuttavia, le forze dell'ordine e la magistratura devono continuare a innovare e a sviluppare nuovi metodi per contrastare una mafia che, come dimostrato anche dall'inchiesta Picaneddu, è sempre più sofisticata e moderna. La collaborazione internazionale tra le forze di polizia, la condivisione di informazioni e l'adozione di strategie comuni sono altri elementi fondamentali per il successo della lotta alla mafia. L'operazione Picaneddu e la sentenza della Corte d'Appello di Catania rappresentano un passo importante nella lotta alla mafia siciliana, ma il cammino è ancora lungo. La criminalità organizzata con la sua capacità di adattamento e la sua pervasività continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza e lo sviluppo del paese. Solo attraverso un impegno costante da parte dello Stato e della società civile sarà possibile sconfiggerla definitivamente e garantire un futuro libero dalla mafia per le prossime generazioni.